13 maggio 2020, mercoledì, bentornati su CiproTV, il ruolo di oggi si chiama i tre faccioli magici. Di cosa stiamo parlando? Allora con il running clock, cioè l'orologio che parte da zero e va avanti, al minuto zero fate tre round di 20 jumping jack e 20 object, un oggetto qualsiasi ground to overhead. Arrivate a sette minuti, a sette minuti altre tre round di 20 jumping jack e 20 object step up, quindi ovviamente sarà un oggetto sul quale potete fare la test step up, arrivate così a 14 minuti dove farete 20 jumping jack e 20 object thrust sempre come il solito oggetto. Se non mi sono spiegato, cosa molto probabile, c'è la grafica qui di fianco con scritto tutto quanto, per oggi è tutto, un appuntamento per domani, ciao!